Musica Lavoro nei social media Sono stato un praticante Nella vita faccio foto reportage Sono operaia Educatore di comunità con i tossicodipendenti Insegno ai ragazzi in una scuola L'ortodonzista, muovo i denti delle persone Faccio l'operaio presso il petrolchimico qui di Ferrara Vorrei diventare un oncologo molecolare Dovrò fare piuttosto numerosi stage non retribuiti Tutti i grossi problemi degli stagisti Che vengono cambiati come cambiare gli indumenti e gli abiti Freelance perché? Perché in questo mondo non riesci tu donna a 39 anni Con ancora la possibilità di fare figli Di mettere al mondo figli Nessuno ti assume più Perché è pure il futuro Io cerco una casa e ancora non posso farla Voglio mettere su famiglia e non lo posso fare Lavoro da molti anni, 10 anni di più E non ho mai avuto un contratto Sempre contratti a progetto Nessuna tutela, nessun inquadramento contrattuale Quindi negli studi, con altri colleghi Di solito senza essere compensati Faccio il collaboratore del mio maestro Però per adesso un lavoro in regola non ce l'ho Ho avuto due contratti da sei mesi E successivamente sono stata assunta a tempo indeterminato Quindi io sono molto fortunata Ma nonostante questo non ho la fortuna Di avere pagamenti regolari Di avere diritti come ogni lavoratore I miei studi mi portano sicuramente all'estero Visto che ormai con la riforma Gelmini C'è veramente poca speranza di rimanere in Italia Cosa che sta venendo fuori ultimamente Proprio non mi piace Insomma l'impressione che ho è che Per arrivare da qualche parte Bisogna essere molto furbi O avere delle conoscenze Credo in andare all'estero Poi non è detto che io non torni Non so cosa aspettarmi dal sistema del mondo del lavoro Devo fare pubblica ammenda di non aver mai pensato A un'iscrizione sindacale Sento molto spesso che si rivolgono comunque A lavoratori a tempo indeterminato Secondo me la contrattazione collettiva deve regolamentare I contratti anche precari In globale nella contrattazione collettiva nazionale Il lavoro flessibile Il sindacato si deve occupare anche dei giovani professionisti Io a Susanna Camusso le voglio dire Che noi giovani siamo belli lo sbando Perché l'Italia investe su noi giovani Solo nella preparazione ma non poi negli obiettivi Avremo un futuro in Italia Volevo chiedere al segretario Camusso Qualche misura concreta che vorrebbe stabilire di concerto Con chi rappresenta appunto i liberi professionisti La donna riuscirà ad avere a raggiungere i suoi obiettivi Riuscirà a fare dei figli e a lavorare Contemporaneamente Dobbiamo cambiare sesso Auguri a tutti i giovani che hanno un lavoro precario Susanna grazie perché sei dalla nostra parte Credo che in questo momento dal mondo femminile Si può avere una spinta in più In un'Italia molto maschilista